Prosegue il Valzer delle panchine nel campionato di promozione con l'esperto Bozzi vicinissimo al Grotta e Silvestro che potrebbe raggiungere l'accordo con il Baiano Ci sono altri due tecnici che a breve dovrebbero conoscere il loro futuro Si tratta di Salvio Casale che praticamente resterà sullo scranno dell'Accadia e Francesco Sgambati che con molta probabilità si accaserà al Paolisi Tornando al campo, nuovo rinforzo per l'Abellinum, la formazione a Tripaldese ha raggiunto l'accordo con Roberto Dello Russo Difensore classe 94 proveniente dalla Virtus Avellino Il calciatore di Mercogliano vanta importanti esperienze in Serie D con Ragusa ed Arzaghena e in eccellenza con Palmese e San Tommaso Siude così il mercato degli over per la formazione allenata da Gianluca della Rocca I dirigenti e lo staff tecnico stanno visionando gli under dalla quale scegliere i prospetti per la prima squadra E organizzare gli organici delle formazioni giovanili juniors under 17 e allievi